Una buona serata dal pala Gianni Asti di Torino con le squadre in campo che stanno ultimando i preparativi a pochi minuti dalla palla a due della ventiquattresima giornata del girone verde di questa serie a due Demerio Mayfield quasi nel pitturato si gira, il numero doppio zero, la fa partire, bellissimo Ieti gestisce in maniera pessima il possesso e fa ripartire Torino che trova due punti facili con Tommaso Guariglia Ottimo il lavoro di Vencato che la mette nelle mani di Guariglia, preso in consegna da Paci nel pitturato, si butta all'indietro Tommaso Guariglia Tiene il punteggio sulla parità, qua Pepe fa partire una tripla, senza pensarci Allora riparte Vencato per Jackson Junior con spazio da tre In punta, con tanto spazio la mette super Vencato che deve trovare un'opportunità, la vede Intafly aperto Celista Fly, campo cercando un varco, riceve ora, preso proprio da del test, Simone Pepe Step back, ancora altra finta, Simone Pepe fa partire la tripla Magic Pepe Allora riparte Mayfield che la mette super Federico Poser Poser, me le mani di Schina che fa partire anche lui la tripla Matteo Schina Tantissimo e la palla rimane nelle mani dell'Arene Mutuo, ancora Pepe prova a lavorare, eccellente passaggio E allora transizione Vencato che riapre per Mayfield che ha un corridoio per andare, la mette per Vencato Transizione torinese, va Jackson Junior per Guariglia Non trova una soluzione, la trova solo ora in De Vico che prova a trovare un'alternativa Cerca Guariglia che deve girare l'angolo, lo fa solo ora Ottimo gancio Coras cambiano i due, prova ad andare il numero tre fino in fondo Non trova una soluzione, riapre ora per Guariglia, dalla media distanza Guariglia L'uscita di Taflai che va a prendersi la tripla, difficile sulla sirena Cielis, cielo, Taflai Per lui anche quattro rimbalzi E tre assist E da in questo momento arriva la schiacciata poderosa di Poser Contro Bonaccini, Vencato fa partire la tripla, Vencato Nel post basso, ora è contro Maglietti, Vencato cerca e trova di nuovo Poser scambiano bene i due Il livello della propria partita in così due frangenti De Vico prende una tripla Il capitano dell'areale mutua, non ci pensa due volte Esce Vencato e riceve lui Arriverà il blocco finto di Poser Che arriva forse ora, si è così Va Vencato, riapre in angolo per Mayfield, prova la tripla Mayfield! Tripla! Fallo! E tiro libero supplementare Per Demerion Mayfield Tutta Torino sulle spalle del numero doppio zero Converte! E allora Torino vede la linea del traguardo Va Maglietti, prova il tiro della disperazione Rieti perde palla Recupera Vencato Game set and match Torino batte Rieti 89 a 85 E non è la linea del traguardo a Ateneo E la linea del traguardo a Ateneo E la linea del traguardo a Ateneo Per Anzionale Per Anzionale Grazie a tutti